Tornano i ladri, altro raid notturno tra busche e feltre, ai danni di 5 attività. Questa la notizia scelta dal Gazzettino di Belluno come notizia principale per l'apertura del giornale di oggi. Dopo il caso di Pedavena, spiega il Gazzettino, in 5 esercizi commerciali tra feltre e cesio maggiore, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ci sono stati altri 5 colpi. Nel mirino anche il bar bianco di busche. Non ci sono stati grandi guadagni, non sono state asportate somme notevoli da parte dei ladri, ma sono stati provocati numerosi danni alle attività che sono state visitate. Per esempio sono state scardinate le porte e ci sono stati altri danneggiamenti, una serie di furti che fanno seguito ad un altro raid che c'era stato in precedenza, sempre nella zona del Feltrino. L'altra notizia scelta come principale nel Gazzettino di oggi, quella riguardo alla vaccinazione per 6.000 ragazzi contro la meningite. La decisione è presa dopo il caso del 17enne di Quero, che è stato colpito dalla meningite e ricoverato all'ospedale di Feltre in rianimazione. Il ragazzo ora sta meglio, ma per questo caso e per altri che sono capitati in Veneto, la regione ha deciso di procedere con questa vaccinazione dei ragazzi. Spiega il Gazzettino. Uno più, uno meno. A 6.000 ragazzi e ragazze della provincia di Belluno, nati tra il 1999 e il 2009, ovvero il 30% di coloro che non sono ancora vaccinati, arriverà a giorni una lettera all'Ustulumit che invita la prevenzione contro la meningite meningococcica causata dal batterio, che è all'origine di questa malattia, che rappresenta il 5% tra le malattie invasive batteriche a livello regionale. L'evento, che anche emotivamente sta facendo da spinta a una campagna con offerta del nuovo vaccino, riguarda anche, come abbiamo detto, un 17enne di Quero ricoverato a Feltre dal 4 novembre. I coinvolti sono circa 22.000 giovani bellunesi. E sempre per quanto riguarda le vaccinazioni, anti-influenzale ancora poche adesioni, e intanto il Covid è quasi azzerato. Sta procedendo la campagna vaccinale contro l'influenza dal 16 ottobre scorso, affidata ai medici di base. A metà novembre l'azienda sanitaria, l'Ulss, farà il punto sull'andamento per capire se aprire i punti vaccinali, azzerati o quasi, i casi di Covid. Ma andiamo all'interno del giornale. La prima pagina di approfondimento è dedicata a un allarme lanciato dalla CISL. Banche in fuga. In metà dei comuni non ci sono sportelli. Secondo la CISL, il processo di chiusura delle filiali nelle terre alte è inesorabile. L'home banking non basta con connessioni non sempre garantite e utenti anziani. Due condizioni che rendono più difficile l'accesso alla banca e ai suoi servizi tramite il computer. E sempre sul tema delle banche, prestiti gli istituti di credito hanno chiuso i rubinetti, soprattutto ai piccoli. Il Veneto è una delle regioni più colpite, ma la provincia di Belluno è fra le migliori. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Festa di San Martino, i giorni più attesi. Oggi e domani sacro e profano si fondano in una ricorrenza molto sentita, scrive il Gazzettino. Concerti, il premio Bancarelle, Street Food e naturalmente la Santa Messa per il patrono della città e copatrono della Diocesi. Viabilità modificata a Belluno di vieti di sosta e transito la mappa, come l'anno scorso, niente navetta dai parcheggi esterni. Questa mattina, dopo la Santa Messa preseduta dal Vescovo Renato, al Teatro Comunale, ora Teatro Buzzati, ci sarà la consegna del premio San Martino da parte del sindaco del Pellegrin a Giorgio Fornasier. E sempre da Belluno, Liceo Lollino, Corsa A4 per rilevarlo. Garantita la fine del ciclo scolastico a tutti i settanta iscritti, nessuna chiusura il primo agosto. Tempi stretti per definire il destino della scuola, fitti contatti tra il Vescovo e gli enti interessati. Si sta procedendo nei colloqui, nelle trattative per vedere di trovare una strada per salvare il liceo. Dopo le assemblee con genitori e studenti dei giorni scorsi, che avevano evidenziato le difficoltà economiche e di gestione della scuola, e la necessità di trovare dei sostegni, magari degli affiancamenti. Ne erano stati prospettati alcuni, tenuti riservati per la ragione di non compromettere eventuali trattative, e si sta andando avanti su questa strada. Pare che ci possano essere quattro enti interessati con cui trattare e dialogare. Andiamo ancora avanti sul gazzettino di Belluno. Siamo alla sezione dedicata a Feltre e al Feltrino. Turismo in salute. Dati in crescita. La conferma arriva dalla pubblicazione delle entrate della tassa di soggiorno nei primi dieci mesi dell'anno. Fino ad ora l'Unione Montana ha incassato 107.000 euro per l'ultimo periodo dell'anno. Si prevede di superare il 2022. La ripresa della Fiction Rai, ritorno al passato, ha contribuito a riempire gli alberghi locali. Una delle varie iniziative che hanno interessato il territorio Feltrino e Feltre in particolare in questo ultimo periodo. Cane incrodato su una roccia, salvato con l'elicottero. Ci sono anche due immagini delle operazioni di salvataggio che sono state realizzate grazie anche all'intervento di un elicottero in comune di Alano di Piave. Bacino del Vanoi, una commissione per studiare il progetto. A Lamont il Consiglio Comunale si divide ma auspica che venga eseguito un adeguato approfondimento rispetto a un'opera che sta suscitando molte perplessità, meglio sarebbe dire molte critiche, in provincia di Belluno. Anche con riferimento, con il ricordo della tragedia del Vaillant perché si sostiene questo bacino che verrebbe creato per costituire una riserva d'acqua a favore dell'agricoltura della pianura veneta, verrebbe realizzato in una zona non sicura da un punto di vista idrogeologico. L'ospedale Papa Luciani ringrazia i volontari per l'ospedale Papa Luciani di Awardo. Il commissario del Luis Dalben ha incontrato le associazioni che sostengono la vita dell'ospedale. Operaio si ribalta nel bosco alla guida di un fuoristrada. Il fatto è avvenuto in comune di Lavalle a Gordina. Un volo di oltre dieci metri accaduto in località Frespian de Val. L'uomo, un trentenne di limana, se l'è cavata con un poluptrauma medio grave. È stato ricoverato all'ospedale di Treviso. E procediamo sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Ed eccoci a Cortina d'Ampezzo. Prime sciate aspettando il ponte. Da oggi in funzione l'impianto di Colgallina sul Falzarego. Intanto scalpitano gli operatori degli altri comprensori. La missione dei Dolomiti Superski è garantire la fruibilità di tutte le aree tra Veneto e Trentino di Alto Alge dal prossimo 5 dicembre. E per lo sport, sprint in Finlandia. Barp, Elia Barp, atleta di Tricchiana, nella top 20. Stiamo parlando di sci di fondo. A due settimane dal Via alla Coppa del Mondo, la Nazionale Italiana affronta le prime competizioni internazionali. Buon quattordicesimo posto del Sappadino Graz. Al diciannovesimo posto c'è Elia Barp. Dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che apre l'edizione odierna con una notizia di carattere economico. Economia. Il nord-est frena. Il presidente di Confindustria Carraro. La situazione è complicata. Pochi aiuti per le imprese. La percezione arriva prima dei dati. E gli industriali ormai da diversi mesi segnalano il rallentamento. Le rilevazioni dell'Istas sulla produzione industriale e le prospettive economiche internazionali confermano il trend. La frenata è evidente. E in prima pagina, quale fotonotizia? È stata scelta quella dell'auto rovesciata. Il fuoristrada ha rovesciattosi in comune di Lavalle a Guardina. Rovesciamento nel bosco che ha provocato il ferimento di un boscaiolo trentenne di Limana, che è stato ricoverato poi all'ospedale di Belluno dopo il soccorso. Ma andiamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno, che si aprono con la notizia della decisione di chiamare al vaccino 6.000 ragazzi contro la meningite da meningococco, 6.000 ragazzi della provincia di Belluno. Pronta una lettera per i nati tra il 99 e il 2009, che non si sono immunizzati a 14 anni come previsto dal calendario. E per quanto riguarda la campagna influenzale e Covid, la campagna vaccinale contro l'influenza del Covid, risposta blanda degli over 60 fa sapere l'Ulss Dolomiti, che nel caso sia necessario è pronta ad aprire anche i centri vaccinali per favorire questa pratica. Senza banca un comune su due, in otto anni chiusi 53 sportelli. L'allarme arriva dalla CISL, penalizzato tutto il settore socio-economico della provincia di Belluno. E poi vengono portati alcuni casi concreti, come quello per esempio di Tambre, dove non si può versare, bisogna andare a Farra o a Puos per farlo. Da Pedavena fino al Comelico non mancano i disservizi. Castellaz, sindaco di Pedavena, qui solo il bancomat forse arriverà quello più evoluto. La resilienza è nel DNA di montagna e imprese, ma la politica si svegli. Questo è il richiamo della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, la quale chiede concretezza e rapidità. Secondo lei è prioritario accelerare sul disegno di legge di sostegno alla montagna, un disegno di legge che porterebbe aiuti e riconoscimenti alle terre alte di cui si sente estremo bisogno. Vigili del fuoco, protesta sull'impiego dei volontari. In provincia manca almeno il 20% degli effettivi. Stato di agitazione del conapo sindacato che riguarda i vigili del fuoco. Il comandante dei vigili del fuoco della provincia del Gallo, i soccorsi sono la priorità. Usiamo tutti gli uomini, naturalmente anche i volontari. Ma questo, sottolinea il sindacato dei vigili del fuoco, non deve essere una scusa per evitare di coprire al meglio l'organico. Da Castion fino in Kenya per studiare sul campo il commercio equo e solidale. Un articolo che descrive l'attività, la sperimentazione di Giorgia del Fabbro, che abita appunto a Castion e che è stata ospite in Africa di una cooperativa per tre mesi. Ho vissuto e lavorato in una coppa rurale prettamente femminile, sottolinea, raccontando la sua esperienza in Kenya, proprio per studiare il commercio equo e solidale. I tagli dei bus diventano definitivi. Via 47 corse, la metà a Belluno. La provincia timbra il piano elaborato da Dolomiti Bus che tiene conto della mancanza di autisti. Sopressioni a Sappada, Agordo e in Val di Zoldo. Deviazione di percorsi per coprire le falle. Nessun studente resterà a terra. Questa la rassicurazione. E poi, anche sul Corriere delle Alpi, un articolo dedicato all'impegno per salvare il liceo Lollino di Belluno. Quattro enti per la gestione. Questa la prospettiva che appare in questo momento. Giovedì un gruppo di genitori ha incontrato il vescovo che ha confermato l'apertura alle trattative. La prossima settimana fissate le riunioni con gli enti per fare il punto della situazione. E vedere di trovare una soluzione. Manifestazione per la pace. Bandiere della pace, Candela e Canti, partecipata. Ieri sera la manifestazione contro la guerra tra Israele e Palestina. Fermiamo la violenza. Questo l'appello della piazza. Si tratta di una manifestazione organizzata dal coordinamento provinciale di Belluno di pace e disarmo. Turismo in crescita nel Feltrino. Gli stranieri trainano le presenze. Incassati finora a 107.000 euro di tassa di soggiorno. Aumenti in tutti i trimestri. L'assessore comunitario dell'Unione Montana, Scopel, abbiamo innescato un circolo virtuoso. 40 anni di volontariato per far leggere chi non vede. Il CILP, il Centro Internazionale del Libro Parlato, celebra con un museo. Ideata una sala documentale che traccerà la storia del centro. Una conferenza al campus apre stasera le iniziative per l'anniversario. E da Feltre, sempre, panoramica, la strada panoramica chiusa, partiti i lavori, nel tratto franato. E andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Sovergene, Cocaldo Sul, un patto di amicizia nel segno degli emigrati. Il sindaco Burigo ha guidato una delegazione nel paese brasiliano, dove sono ancora comuni i cognomi Savi, Tramonten, Bortoluzzi. L'ungarone, raccolta di segnalazioni per i tanni da maltempo di luglio e agosto. Ed eccoci a Livinalongo. Finita la tabellazione dei sentieri tra Colle, Castello, Monteporo e la zona dell'Averau. Al lavoro i volontari della Ladinia, del CAI di lingua tedesca, sono serviti dieci anni per portare a termine l'opera. Le mafie si battono se si fa rete. Galeano, Paolo Galeano, ospite di Libera a Gordino. Dal sindaco di Preganziol, referente regionale di avviso pubblico, una puntuale disanima del fenomeno, calata anche nella realtà locale. Cortina, la famiglia Bellodis, lascia la locanda del Cantoniere. Gli storici gestori dell'hotel-ristorante di Vervei a fine stagione non rinnoveranno. Le regole hanno già emesso un nuovo bando, 50.000 euro all'anno la richiesta. San Vito di Cadore. Il comune pagherà lo ski bus dal centro fino alle piste del paese. Calalzo, via Libera, ai lavori, il campo da calcio diventerà sintetico. La giunta comunale ha approvato l'approfondimento tecnico per riqualificare l'impianto che si può utilizzare per tutto l'arco dell'anno. E concludiamo con una notizia di musica. Un mix tra Mozart e Bepi De Marzi, il vaiont della Big Vocal Orchestra. Alle 18 a Longarone, uno spettacolare concerto. Domani in chiesa, l'omaggio del coro più grande d'Italia per il sessantesimo del disastro. Il direttore Borella, molti nostri coristi hanno stretti legami con la tragedia. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.